www.marizopoli.it, le imprese familiari e la fotografia dell'osservatorio AUB e ha analizzato i dati economici di 11.635 imprese familiari italiane a livello di diversità dei loro asset di governance, i risultati illustrati nel 14esimo rapporto dell'osservatorio presentato lo scorso 30 gennaio. Non si tratta di un'indagine a campione, ma di uno studio su tutte le aziende familiari italiane con un fatturato di almeno 20 milioni di euro. Emerge che il 26,4% delle società analizzate ha almeno un consigliere di amministrazione sotto i 40 anni. Nel 37,6% delle organizzazioni sono presenti più del 33% donne, mentre il 60% delle aziende è presente almeno un componente non familiare. Nel 91% delle imprese sono presenti meno di due consiglieri con più di 75 anni di età. Vi riporto qui l'articolo per un'importante riflessione sul passaggio generazionale. Alla prossima!